Parliamo dell'alimentazione sana e equilibrata nelle persone sportive. Innanzitutto il tipo di alimentazione cambia molto in base al tipo di sport fatto, in base all'intensità e alla durata dello sport. In linea generale, le persone sportive dovrebbero consumare un'abbondante quantità di frutta e di verdura, almeno 5 porzioni al giorno di frutta e di verdura. Ci dovrebbe essere un adeguato rapporto tra proteine e carboidrati. Gli sportivi spesso tendono a consumare molte proteine e a tralasciare i carboidrati. Invece i carboidrati sono proprio quelle sostanze che danno energia per effettuare l'attività fisica. Tra gli alimenti che contengono carboidrati ricordiamo la pasta, il pane, il riso, la polenta, ma anche l'orzo, il farro, il miglio. Tra gli alimenti proteici invece è importante alternare la carne bianca, la carne rossa, il pesce, le uova. Anche i legumi sono molto importanti e i formaggi. Un altro alimento importantissimo è l'acqua. Non deve mai mancare nell'alimentazione dello sportivo. Bisogna bere ancora prima di sentire lo stimolo della sete. In generale l'alimentazione deve essere composta da una buona colazione, a pranzo un cibo semplice, ad esempio una pasta al pomodoro, alle verdure con pochi grassi, una merenda che dà energia e alla sera le proteine insieme comunque a una parte di carboidrati. Grazie. 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 Grazie.